Buongiorno, se vuole, buongiorno, come va? Molto piacere, buongiorno, buongiorno, ci avevano detto ma non ci credevo. No, da ragazzo ho vissuto qui a 4 anni. E quindi ha studiato qui? Sono andato alla scuola inglese, l'ambasciato olandese, è il modo migliore. E come si impara bene da giovane non si impara poi dopo, assolutamente, si fa una gran fatica dopo. Anche perché divideva l'università la casa con una ragazza francese, andavo spesso in Francia. Adesso, niente, lei per caso ha mai... E quindi lascio perdere e vado in inglese, perché è la lingua che ho parlato per te. E' un po' una storia solo, ha fatto anche lui liceo qui e poi dopo l'università in Inghilterra. Grazie, grazie.